Patrick Marmorato, oggi a Ferno la vittoria numero 12 degli Unni, su 13 mete due sono state le tue. Sì, oggi abbiamo giocato molto meglio rispetto a settimana scorsa, abbiamo giocato molti più palloni, abbiamo fatto molti meno errori sia in attacco che in difesa. Anche il nostro mediano Padula ha giocato molto bene nonostante il dolore alle costole, infatti non è riuscito a finire la partita, però quando è stato in campo ha fatto la differenza. Per lui tre mete. Esatto, sì. Un po' di problemi fisici ma ha giocato molto 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 bene. Oggi ho visto una squadra bella attenta. Sì, abbiamo fatto un grande salto di qualità rispetto alla partita di settimana scorsa, il punteggio ci ha dato ragione, ci serviva una bella vittoria per ripartire bene anche perché ci aspettano delle partite fondamentali, delle partite difficili nelle prossime settimane. Domenica prossima trasferta a Novara. Noi dobbiamo rimanere concentrati e soprattutto rimanere concentrati sui nostri obiettivi, pensare a vincere ogni singola partita e poi quello che arriverà, arriverà. Un lì, qual è il nostro mestiere? A un! A un! A un!